Grande successo per la prima edizione di Torre di Stelle, evento che si è svolto presso il Castello di Torre, un antico maniero dal passato affascinante e oggi sede dell'importante Museo archeologico di Pordenone. La serata ha conquistato quasi 300 persone che hanno avuto l'opportunità di effettuare un tour guidato al museo, sorseggiare un aperitivo sulla terrazza panoramica, gustare una cena nel parco del castello, curata da varie attività del quartiere e ascoltare un bel concerto dal vivo. Torre di Stelle, da cosa nasce questo evento? Nasce dalla voglia dell'Associazione Castello di promuovere sempre il proprio quartiere, nasce direttamente dal quartiere, anche dall'esigenza di far riscoprire sia il Museo archeologico e quindi il Castello di Torre, ma anche tutto il parco che ci sta attorno. Le attività, diciamo che l'idea era quella appunto di proporre una visita un po' particolare, una visita guidata particolare, a cura di Eupolis. E quindi abbiamo pensato di abbinare un aperitivo in terrazzo, il terrazzo che poi è stato aperto proprio per l'occasione, perché sarebbe chiuso al pubblico, e poi continuare magari con una pericena, con una musica live. E quindi lì abbiamo coinvolto tre realtà locali, quindi del quartiere, molto conosciute, che hanno ben accettato la nostra idea e si sono subito adoperati e hanno fatto un enorme lavoro, grazie a noi e anche con la collaborazione del Comune, preziosissima collaborazione del Comune. Una serata magica quel Castello di Torre che ospita il Museo archeologico cittadino. Assieme all'associazione Il Castello abbiamo unito anche alcuni esercizi commerciali per fare in modo che quest'area venisse riscoperta. Uno degli obiettivi dell'estate a Pordenone di quest'anno è proprio quello di riscoprire aree che magari i pordenonesi conoscono poco e ce l'abbiamo sotto il naso. In questo caso una partecipazione di 125 persone alle visite guidate, parte di loro poi si fermerà a cena e potrà ascoltare musica. Quindi l'obiettivo della valorizzazione di questo luogo mi pare raggiunto. Un particolare ringraziamento va ad Alessandro Casagrande dell'associazione Il Castello che si prodiga insieme ai suoi volontari per animare il quartiere e rendere accogliente questa struttura. L'evento si è svolto nell'ambito dell'estate al castello. Una rassegna ricca di musica, teatro, spettacoli, letture animate per i più piccoli a cura dell'associazione Il Castello di Torre che si terranno fino al 1 settembre all'Arena OVS allestita nel suo verdissimo parco. Grazie a tutti.